Noi abbiamo patito 5 minuti, 5 minuti dove abbiamo preso due gol, il resto abbiamo fatto tutto noi. È chiaro che in quei 5 minuti c'è stata una spinta impressionante da parte del pubblico di Salerno e la squadra ha trovato questi due gol che gli hanno permesso di fare questo bel risultato. Da parte nostra abbiamo avuto un buon possesso palla, abbiamo gestito bene la partita, abbiamo rischiato poco però siamo stati poco incisivi nella parte finalizzativa e secondo me dovevamo essere un pochettino più determinati e più aggressivi perché comunque far risultato fuori casa non si può prescindere da questi aspetti qua. Questa è ancora più rabbia che ho perché comunque chiaramente non avendo dei difensori di ruolo loro hanno adattato Gatto tutta fascia, hanno messo Vitale e Centrale. È chiaro che poteva essere una cosa positiva per noi ma nonostante questo abbiamo creato poco per l'amore di gioco che abbiamo fatto quindi lì c'è da lavorare, c'è da verificare questa partita, ci dispiace per il risultato che abbiamo avuto.